Salve a tutti, per le guide software libero sono Francesco Fusillo e vi mostrerò come si può trasformare, salvare, esportare una mappa come questa fatta con Cmap in un sito web perfettamente funzionante come in questo caso. Allora questa video lezione la faccio per il web ma la faccio in particolare per i miei corsisti del TFA di Verona che mi hanno chiesto questa possibilità, mi hanno fatto una richiesta, come è possibile mettere una mappa sul web, poterla collegare a un sito di classe, a un sito della scuola e così via. Adesso vi farò vedere come si fa, questo in effetti vedete è un indirizzo web in una scheda di google chrome, i collegamenti sono funzionanti, questo è un collegamento a wikipedia, questa è una sottomappa, cioè una mappa di espansione, di approfondimento e Cmap si presta moltissimo a essere uno strumento didattico inclusivo proprio per questa ragione, perché permette di affrontare la conoscenza a varie livelli di implicazione. Adesso voi vedete che io ingrandisco e riduco le dimensioni di questa mappa perché sia visibile, perché questo è un difetto di come è stata costruita la mappa e l'ho lasciato proprio perché si capisca. Allora qui si vede abbastanza bene, è abbastanza ordinata, i testi sono visibili, però come vedete sono arrivato all'80%, invece la mappa principale da quale siamo partiti sempre sul web e per vederla tutta intera siamo al 50%. Allora la mappa di partenza era questa, questa è Cmap, queste sono le cartelle locali e questa è Cmap nella fase editor. Come vedete è al 46% e Cmap ovviamente quando la salva, la salva al 46%, per cui se noi vogliamo che il nostro sito si spalmi bene sulla pagina web, sia ordinato, si possa vedere e si possa navigare vedendo magari i collegamenti, vedete qua non si vede, dobbiamo creare la mappa e con una visibilità qui del 100% e salvarla ovviamente a quelle condizioni lì. Questa sarebbe una mappa in presentazione, come potete vedere, però non funziona la presentazione quando diventa un sito, perché di fatto la mappa, il sito web è di per sé, è di per sé una presentazione. Allora adesso vediamo come si procede per ottenere questa funzione. Allora faccio la mappa, faccio le sottomappe, faccio tutto il lavoro di cooperative learning con la classe, quando ho deciso che è finita, ricordatevi che la visibilità è al 100% e vado a salvare questa mappa e la esporto come pagina web, eccolo qua, come pagina web, però la esporto all'interno di una cartella che avrò preparato. Ecco, ho preparato una cartella sul desktop, sul monitor, questo è il suo di linux, ma non cambia niente per chi usa windows o il mac, eccolo qui, mappa web, è una cartella vuota, come vedete, io adesso andrò a salvare questa, esportare questa mappa, mappa web, dove in scuola scrivania, salviamo la nostra mappa, in scuola desktop, mappa web, qui dentro, salva. Bene, è stata esportata. Adesso perché la mappa funzioni completamente, devo esportare anche le sottomappe, i contenuti che si metti già portati via, ovvero, quello che sta nel locale, cioè qui nella cartella che crea simap, chi ha seguito le guide su simap sa cosa fa simap, salva tutto dentro questa cartella locale, che è una cartella di simap all'interno di my simap dentro i documenti, però devo portare via anche le mappe collegate, altrimenti quando io farò funzionare la mappa web, ci saranno dei collegamenti morti, quindi devo portare via questa, quella del sangue e quella della circolazione. Allora, cosa faccio? La apro, ecco, e la salvo come pagina web, sempre dentro la stessa cartella. e poi ce n'è un'altra che mi sembra questa, ecco qui, battito cardiaco, la devo salvare come pagina web, sempre all'interno della stessa salva. Adesso io, dentro quella cartella, ho tutte le risorse di mappa, che è questa, e tutte le mappe collegate, eccole qua, mappa principale, quella del sangue, quella del battito cardiaco, e tre pagine html, che sono in realtà questa piccola mappa, e un video, poi ci sono collegamenti al web, ma quelli stanno dentro a questa mappa principale. Adesso, perché il sito funzioni, non posso lasciare la cartella mappa web in questa maniera, perché ci vuole un file index, che è il file di partenza, quindi tasto destro, rinomina, che è la mappa principale, index. Ecco, adesso, questo praticamente è un piccolo sito che io dopo esporterò sul web, però dentro il mio pc. Come faccio a vedere se funziona? Eh, lo apro, e vedo se va. Doppio clic, eccolo che è partito. E come vedete, è partito o Firefox o Chrome, non guardo neanche. Allora, lo porto al 50%, perché abbiamo visto il difetto. Vi ho spiegato, vedete, sto aprendo una pagina html che è residente in nome, scuola, desktop, mappa web. Bene, vediamo se le cose funzionano. Qui c'è Wikipedia il cuore. Adesso però va su internet, infatti c'è andato. Qui c'è una mappa, no, un video, e va su internet, no, che è dentro alla cartella. Qui c'è il battito cardiaco, home, scuola, ok, funziona. E qui sotto c'è un'altra mappa, un'altra sottomappa di approfondimento, che è questa. Bene, allora ho verificato che il sito che ho esportato dentro questo mio pc è operativa, funziona. Adesso il bello sta a portare questa cartella qui, metterla a disposizione del web, in maniera che possa essere vista da chiunque che ha un indirizzo web. Come, come, come si fa? Bene, allora si fa così. Si fa così. Allora, prima di tutto si prende un hard drive di Google. Io sto usando un sistema di Google, mi sono dimenticato di dirlo. Quindi usate un hard drive di Google, non qualsiasi hard drive. E quindi trasportate questa cartella, io l'ho messa dentro al mio hard drive, sotto cartella di tick mappa web. Eccolo qua. E dopo che avete spostato questa mappa dentro un vostro hard drive, come questo qua, ovviamente, ovviamente dovete darle le funzioni di condivisione aperte, perché altrimenti non le vede nessuno. Ecco, chiunque navichi su internet può visualizzare questo elemento. Quindi aprite, aprite, aprite la vostra mappa alla disponibilità del web. Fatto questo, il gioco è quasi fatto, perché adesso voi dovete andare su questo sito, su questo sito che adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere che è questo, questo sito qui. Guardate bene qua, drv.tv. Praticamente Drive2Web è un servizio che scansiona i driver di Google e OneDrive. E va a vedere quali sono le pagine HTML disponibili da mettere sul web, generando un indirizzo. È un servizio che non fa Google, ma questo servizio collegato sì. Allora, bisogna avviarlo, inserire le proprie credenziali che io ho già messo, semplicemente password e indirizzo, la mail del drive di deposito che usa è questo qui. Qui, la password non c'è già perché in automatico la mette in quanto io l'ho già messa. Utilizza questo account e lui dovrebbe andare avanti diretto perché c'è già messa. Ok. A questo punto dovete consentire al servizio Drive2Web di entrare e scansionare il vostro hard drive. a questo punto quando lo fate, lui scansiona tutto il sito. E vedrete PhonePro che trova tutte le pagine web presenti dentro il sito, dentro il hard drive. Ne ha trovate una, due, tre, quattro. Allora, però, quella che interessa a me è questa dentro sito web, TFA, mappa web, sangue. Perché so che è questa? Perché una è battito cardiaco, è una sottomappa. Quell'altra è sangue, che è un'altra sottomappa, e quell'altra non c'entra niente. Quindi questa è il file index. Se non siete sicuri, basta fare un clic e vedete. Allora io clicco però in un'altra scheda, così potete vedere se ho fatto giusto o sbagliato. Vediamo. Eccola qui. Vedete? Qua siamo sul web, non siamo sul centro del mio pc. Siamo sul web. Tanto è vero che questo indirizzo qui, io lo posso copiare, incollare, distribuire, mandare in posta. E le cose funzionano. Basta vedere se funzionano. Clicco qui e vedo il collegamento su Wikipedia. Funziona. Clicco qui, vedo se parte il mio video. Vediamo. Ecco sì, mi pare che lo stia caricando. E' partito. E la sottomappa, vediamo se parte. Partito cardiaco, è partita. Come vedete le cose funzionano, però la visibilità non è il massimo, proprio per il problema di proporzione che ho indicato prima. Quindi, nel fare la mappa, se l'intenzione è quella di portarla sul web, fate molta attenzione che lo zoom sia al 100%. E quindi, il salvataggio della mappa corrisponde bene a un desktop sedicinoni, come in questo caso qui che stiamo vedendo. Allora, questo è l'indirizzo di mappa. Quindi, io si piglio questo indirizzo, copia, lo mando in posta elettronica, lo collego a un sito. Tutti quanti, da tutto il mondo, potranno vedere questa mappa che io ho realizzato prima in locale. Non c'è altro da dire. Rivisita un po' le cose, si fa la mappa, si crea la mappa, si salva per il web, si esporta per il web in una cartella, si esportano tutte le altre sottomappe che si portano dietro i collegamenti, la cartella va messa in un hard drive, come ho fatto qui, va messa in un hard drive, alla voce che voi indicate per la vostra comodità. si apre il sito drv.tv, si danno le credenziali dell'hard drive, lui entra e ti trova alle pagine HTML. Quelle pagine lì, la pagina index, che deve essere rinominata come index, sarà il punto di partenza del vostro sito web. L'indirizzo è lunghetto, ma ci sono tanti servizi sul web che lo accorciano, eccolo qui, questo è l'indirizzo che lo accorciano, quindi voi lo potete spedire, mandare, inviare e fare quello che volete. Quindi con questa schermata chiudo questa video lezione, creata anche questa con un software libero VocoScream, e vi auguro di riuscire anche voi nell'intento di creare un web, un sito web con CMAP. Buona sperimentazione. Francesco Fusillo per le guide del software libero.